La firma di un altro anno di contratto. La Juventus 3, ancora in più, 3 a 0. Mariamoli sinistro, traversone in mezzo, colpo di testa, la palla in rete, assegna plus. 3 a 0 per la Juventus. Avvio, la sblocca, la Juventus, non ho venuto. La Juventus. Questa è un lavoro di rinforzamento. La Juventus. Questa è un lavoro di rinforzamento. La Juventus. La Juventus. La Juventus. Grazie a tutti.